Una somma consistente per rifare il lucco agli edifici scolastici provinciali. Infatti, la provincia di Salerno ha stanziato la somma di 2.800.000 euro per lavori di manutenzione agli istituti scolastici per aumentare i livelli di sicurezza e fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Uno sforzo necessario ed atteso, frutto dei finanziamenti del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali. Il presidente della provincia, Michele Estrianese, ha confermato che sono stati elaborati due progetti del settore edilizia scolastica e patrimonio, ciascuno dei quali ha un importo di 1.400.000 euro per le scuole di tutto il territorio provinciale. Le procedure di gara sono state già esperite e si già provvedute alla giudicazione alle due ditte appaltatrici che quindi a breve partiranno con la messa in sicurezza degli edifici provinciali. E' stato stabilito anche che i lavori avranno durata fino ad agosto 2021 e riguarderanno prevalentemente opere di impermealizzazione, riparazione ma anche sostituzione di infissi, manutenzione di impianti e interventi urgenti necessari per la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici. Insomma, accorgimenti utili ed attesi per incrementare i livelli della sicurezza e contrastare l'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19.